Buongiorno e ben trovati con i giornali in edicola, l'appuntamento quotidiano con la nostra rassegna stampa. Oggi sulle prime pagine delle maggiori testate italiane l'apertura è essenzialmente dedicata alla fase di stallo che stanno vivendo le istituzioni europee, soprattutto la Commissione europea. Oggi la Presidente Ursula von der Leyen avrebbe dovuto presentare la sua squadra annunciando le deleghe per ciascun commissario dei paesi componenti dell'Unione europea, ma questa presentazione è slittata la prossima settimana, ufficialmente per problemi ancora legati a formalismi come la Slovenia che non ha ancora definito chi sarà il rappresentante in Europa del proprio paese, ma in realtà ci sono dei veti incrociati proprio sul nome del nostro commissario europeo, il Ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, scelto dalla Premier Giorgia Meloni. I socialisti, i verdi non vogliono che la Vicepresidenza esecutiva vada al gruppo dei conservatori europei perché ci sarebbe uno sbilanciamento a destra, hanno fatto sapere in alcune note attraverso il loro portavoce e non vogliono uno sbilanciamento della Commissione europea a destra. Questo ovviamente ha creato non pochi problemi e tensioni anche in Italia, tant'è che la Premier ha sentito il Presidente del PPE, che è il partito che ha espresso a livello europeo Ursula von der Leyen e di cui il nostro Ministro degli Esteri italiani e Vicepresidente Manfred Weber, a cui toccherà mediare l'Italia pretende delle deleghe di peso. Il giornale tedesco Die Welt la scorsa settimana aveva parlato di deleghe legati al PNRR e all'economia e di una Vicepresidenza esecutiva. Queste indiscrezioni ovviamente hanno alzato polemiche e un polverone non indifferente, creando appunto lo stallo che sta vivendo l'Europa in questo momento. Però il governo italiano è afflitto anche dal caso San Giuliano, perché l'ex Ministro è ufficialmente indagato per peculato e rivelazione di segreto istruttorio e ieri si doveva registrare un'altra intervista con delle rivelazioni inedite della consulente campana Maria Rosaria Boccia che ha dato ad un programma di Mediaset Forfait all'ultimo minuto. Un forfait che i retroscenisti leggono come l'espressione, il risultato finale della pressione che per tutto il pomeriggio Palazzo Chigi avrebbe fatto su Mediaset. Se questi sono i temi che riguardano la politica nazionale, la politica internazionale questa mattina guarda su tre fronti. I due bellici, quindi quello medio orientale e ucraino, ma anche gli Stati Uniti, perché c'è stato il primo confronto tra Donald Trump e Kamala Harris, entrambi in corsa per la Casa Bianca nelle elezioni del prossimo 5 di novembre. Tanti temi su cui si sono punzecchiati e che riguardano essenzialmente i diritti civili legati agli immigrati e il diritto all'aborto. Dicevamo i fronti bellici, uno sciame di droni ucraino ha sorvolato il cielo di Mosca creando non pochi problemi alla Russia che ha avviato anche una grande esercitazione della propria marina. Intanto il segretario di Stato americano Blinken in visita a Londra ha confermato la fornitura da parte dell'Iran di armi a Mosca e questo ha inasprito le sanzioni con il governo inglese che ha addirittura anche interrotto i collegamenti aerei con il paese appunto asiatico. E poi la situazione in Medio Oriente, ieri strage ad Al-Mawasi che è una striscia di sabbia a sud-est di Khan Yunis che è la roccaforte degli sfollati palestinesi, 19 i morti e secondo l'esercito israeliano che ha condotto il bombardamento lì si annida la presenza dei terroristi del 7 ottobre e proprio per il 7 ottobre c'è l'ipotesi di un salvacondotto per Sinwar che è il capo di Hamas che avrebbe un salvacondotto però in cambio della rinuncia da parte del gruppo al controllo della striscia alla liberazione dei rapiti del 7 ottobre. Per la cronaca si torna in Italia con il ritrovamento degli alpinisti che erano dispersi sul Monte Bianco da sabato scorso ma i fatti più cruenti arrivano da Viareggio e da Perugia. A Viareggio una donna ha investito ucciso un algerino di 47 anni che poco prima l'aveva scippata della borsa la donna è stata arrestata per omicidio volontario e a Perugia una strage familiare un uomo ha ucciso sua figlia e sua moglie e poi si è tolto la vita. Per lo sport invece l'affaire Sinner perché la UADA che è l'agenzia internazionale per l'antidopping ha deciso di chiedere approfondimenti sul caso del tennista italiano che avrebbe involontariamente assunto una sostanza proibita. Questi sono gli argomenti che troviamo sulle prime pagine che cominciamo a guardare insieme partendo come sempre dal Corriere della Sera. Unione Europea scontro sul ruolo di Fitto, von der Leyen rinvia l'annuncio della squadra Schlein un incarico di peso all'Italia ma serve coerenza, è il commento della segretaria del Partito Democratico a questa fase di stallo. I socialisti europei no a deleghe forti per i conservatori, sapete la nostra Presidente del Consiglio e anche Presidente del gruppo ECR. Meloni tratta ed è un passaggio delicato. La squadra dovrebbe essere presentata il prossimo 17 settembre. Weber c'è un'intervista appunto al leader del PPE su Raffaele, ovviamente Fitto, non ho dubbi l'Europa rispetti i risultati del governo di Roma. In realtà se Weber chiede questo, diciamo così lo stallo è dovuto non soltanto a un eventuale possibile sbilanciamento a destra con la nomina di Fitto ad una vicepresidenza esecutiva ma anche, sapete, il governo italiano si è astenuto nella rielezione di Ursula von der Leyen e ha votato contro l'elezione delle altre cariche dei vertici europei. Di taglio alto poi abbiamo un'altra notizia che riguarda sempre l'Europa e soprattutto le grandi multinazionali della E-Tech. La Corte europea condanna Apple aiuti illegali ora paghi 13 miliardi ed è quanto appunto il gruppo di Cupertino avrebbe beneficiato dal 91 al 2014 di vantaggi fiscali derivanti da un aiuto di Stato concesso dall'Irlanda. Con Apple però finisce nel mirino dell'Unione della Corte europea anche Google che è stato praticamente multato per 2,4 miliardi di euro per un abuso di posizione dominante. Nessuno può violare le regole, ha detto la commissaria europea alla concordenza Margaret Verstacken. Invece per quanto riguarda la fotonotizia a centropagina abbiamo ovviamente la cronaca, i cadaveri recuperati sul Monte Bianco sono morti assieme ad altri due alpinisti coreani ed è l'ultima scalata di Sara Stefanelli e Andrea Galimberti. C'è stata tanta polemica anche su questa scalata perché le previsioni del tempo pare fossero sfavorevoli ma è stato spiegato dagli esperti che il meteo in alta quota può cambiare da valle a valle quindi molto probabilmente i quattro alpinisti sono stati beffati da questo cambio repentino. E poi lo scippatore investito dal SUV per quattro volte quanto accaduto a Viareggio con Cinzia Dal Pino, la donna di 65 anni che è titolare di uno stabilimento balneare che è stata poi arrestata. In prima però troviamo anche un richiamo sulla morte della moglie del presidente Roberto Napoletano, giurista militante e first lady, addio a Clio Napolitano, la moglie di Giorgio Napolitano che è stato capo dello Stato dal 2006 al 2015. Andiamo a vedere come apre Repubblica, apre ancora sullo stallo dell'Unione Europea, Ursula scivola su Meloni, socialisti liberali e verdi contro la proposta italiana di nominare fitto vicepresidente esecutivo della Commissione e Von der Leyen è costretta a rinviare la presentazione della squadra. In campo c'è anche Weber, leader del PPE, per trovare un compromesso. L'occhiello però è dedicato anche a quanto sta facendo il cancelliere tedesco Ola Scholz che blinda i confini della Germania contro i migranti dopo, dice, gli attentati che sono stati registrati nelle ultime settimane. Ma su questo ha avuto un richiamo da parte di Bruxelles perché Schengen va interrotto soltanto a determinate condizioni. A centropagina una vignetta che richiama a Draghi che ieri è stato contattato dalla nostra Presidente del Consiglio. Lo sapete, due giorni fa Mario Draghi, ex Presidente italiano ed ex responsabile della Banca Centrale Europea, ha presentato, così come era stato richiesto da Ursula von der Leyen, un approfondimento sulla competitività europea, un tomo di 327 pagine in cui ha definito quali sono le linee guida da seguire in maniera urgente, altrimenti si assisterà ad una lenta agonia dell'Unione Europea. E su questo Giorgia Meloni ieri lo ha contattato telefonicamente e si dovrebbero vedere i due a Palazzo Chigi. Poi ancora giallo boccia a carta bianca, ha sparita l'intervista su San Giuliano e del forfè che ha dato la consulente di 41 anni Campana ieri al programma Mediaset che andava in onda su Rete 4. E poi c'è un altro richiamo polemico in prima su Repubblica alla Premier, caccia i poliziotti dagli uffici di Palazzo Chigi. Questa notizia che ieri è stata data dal sito del giornale La Stampa, raccogliendo lo sfogo di alcuni sindacati di polizia che hanno riferito che alcuni agenti in servizi sul piano dove si trovano gli uffici, tra l'altro del capo ufficio stampa della segreteria della Premier, ma anche del suo fidato Fazzolari e del sottosegretario Montovano sarebbero stati allontanati dal piano, forse pare per mancanza di fiducia temendo eventuali altre fughe di notizie. In realtà il capo ufficio stampa di Giorgia Meloni ha spiegato che la richiesta della Premier è stata quella al Cerimogliano e di Palazzo Chigi di rivedere la presenza in ascensore degli agenti. Era una donna che si occupava di accompagnare ospiti e Premier nello spostamento dai vari piani e non assolutamente sono stati allontanati gli agenti e ha rimarcato la fiducia nella polizia di Stato. In realtà è una polemica che i sindacati hanno portato avanti perché male hanno digerito questo cambio non comunicato peraltro degli agenti a lavoro a Palazzo Chigi. Su invece lo spazio che Repubblica dedica agli esteri abbiamo la Pensilvania, lo Stato dove Harris deve vincere per battere Trump, un'analisi che è stata fatta da Mastrolilli e che apre un attimo quelle che sono gli analisi sull'economia e su quello che naturalmente è la situazione dello Stato americano a poche ore dal dibattito che si è concluso questa mattina per ora italiana. Poi Europa e Stati Uniti sanzioni all'Iran per la fornitura di missili a Putin ed è quello che ovviamente ha detto ieri Blinken in visita a Londra e poi di piede troviamo la Corte di Giustizia Europea con le sanzioni ad Apple e Google per evasione fiscale per aver violato la norma sulla concorrenza, la riapertura delle scuole, l'avvio del nuovo anno scolastico e una riflessione di Paolo Berizzi su quanto hanno fatto gli italiani nel corso della partita giocata a Budapest contro Israele durante l'inno alcuni tifosi hanno dato le spalle al campo. La stampa apre con la nomina di fitto che divide l'Unione Europea stop socialista no a un vicepresidente conservatore. Il Partito Popolare Europeo lo difendiamo noi e quindi la Commissione è rinviata. Nel frattempo ieri c'è stato un incontro tra il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Forza Italia Tagliani e sulla manovra che il Ministro dell'Economia ha definito difficile perché mancano 10 miliardi, Sanità e il timore del Ministro Schillaci così le assunzioni saranno impossibili. Peraltro si sono registrati specialmente in Puglia anche delle forti aggressioni ai danni del personale sanitario che sta spingendo il Governo a prendere dei provvedimenti. C'è stata addirittura la proposta di legge di introdurre il DASPO per i violenti che aggrediscono medici, infermieri e operatori sanitari. Sempre complotti e sicurezza, i sindacati di polizia in quattro via da Palazzo Chigi ed è la denuncia del SILP CGL dove sono stati allontanati i poliziotti e le poliziotte dal piano dove si trovano gli uffici della Presidente Giorgia Meloni. In realtà la smentita di Palazzo Chigi è la polemica di cui vi parlavo prima con Giorgia Meloni che definisce surreale quanto accaduto e definisce fondamentale e importanza la fiducia negli agenti e nella polizia. A centro pagina la foto lo vedete di Sinuar che è il capo di Hamas, l'offerta di Israele, il salvacondotto per Sinuar in cambio degli ostraggi ma nel frattempo è raid sui profughi appunto a sud-est di Khan Yunis. Poi abbiamo di taglio laterale boccia via da rete 4, lite con Berlinguer e pare che insomma le abbia registrato e quindi tra le due che ovviamente la boccia si è difesa dicendo di no è nato un battibecco. E quindi questa è la prima pagina della stampa. Il Sole 24 Ore apre invece con lavoro e pubblica amministrazione con 2 milioni a caccia di posti pubblici nei primi 8 mesi del 2024 più di 13 mila bandi per 288 mila ingressi, boom di candidati e le posizioni offerte sono il 176% in più rispetto allo scorso anno. La fotonotizia è dedicata a Google ed Apple sconfitte dai giudici della Corte Europea e che quindi saranno costretti avversari rispettivamente 2,4 miliardi e 13 miliardi di euro e poi BTP record chiesti 130 miliardi a 30 anni ed è l'analisi dell'andamento dei titoli di Stato. Di taglio alto invece il procuratore della Corte Penale Internazionale che ha chiesto e ha spiccato un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu e Gallant, il ministro della difesa israeliano e Sinua, il capo di Hamas. In prima però troviamo anche sul giornale degli industriali la congiuntura, la caduta dell'auto, gela la manifattura a luglio meno 0,9% sul mese precedente e sono i dati istat resi noti ieri appunto sull'andamento dell'economia italiana. Andiamo a guardare invece il giornale dei Vescovi come apre, apre sull'ambiente senza vita ovvero nel 2023 uccisi 196 attivisti per l'ambiente 70% tra Brasile, Honduras, Messico e Colombia e poi il viaggio di Papa Francesco a Timorest pace e riconciliazione, il Vangelo sia radice della democrazia la fotonotizia è dedicata alla Fontana di Trevi ad accesso limitato, prima in maniera gratuita e poi sarà a pagamento e poi ieri è stato firmato un protocollo tra l'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori del settore edile l'ANCE, l'Associazione Italiana dei Comuni il Ministero della Giustizia e ovviamente anche la Conferenza Episcopale Italiana per impiegare nelle regioni che nel 2016 sono state colpite dal terremoto i detenuti proprio per la ricostruzione ed è simbolico, ha detto il Presidente della CEI il Vescovo di Bologna, Matteo Zuppi che proprio i detenuti riescano a partecipare alla ricostruzione e simbolicamente lo fanno anche per ricostruire la propria vita l'obiettivo, ha detto, è la recidiva zero che sembra un sogno ma sognare deve essere possibile di taglio più basso invece la strage a Caniunis Amas sconfitta a Gaza tra le vittime che sono 19 ci sono anche donne e bambini il messaggero apre con i commissari europei vetri e rinvio Von der Leyen rimanda la presentazione della nuova squadra il nodi verdi socialisti e socialisti alla vicepresidenza esecutiva a Fitto e poi il Partito Democratico si divide ed è braccio di ferro sul green lo sapete è uno dei capisaldi del report sulla situazione europea fatto da Mario Draghi la fotonotizia è dedicata all'imprenditrice di Viareggio che ha investito il ladro che l'aveva scippata e dopo averlo fatto è tornata tranquillamente a casa centropagina sempre il quanto accaduto a Perugia moglie e figlia doppio omicidio nel casale Umbro i corpi rinvenuti dopo tre giorni dal fidanzato della ragazza e l'autora di questo delitto il padre e marito delle vittime si è suicidato ed era in cura per la depressione poi Andrea e Sara trovati senza vita sul Monte Bianco poi abbiamo anche in taglio basso il ride su Caniunis l'offerta a Sinuar salva condotto se libera gli ostaggi il mattino di Napoli apre sull'Unione Europea slittano i commissari ma quello che colpisce sono altre due notizie che troviamo qui e sono G7 Cultura sopra luogo a Pompei invitato Bocelli lo sapete dal 19 al 22 c'è questo G7 della Cultura che poi ha fatto un po' nascere lo scandalo perché Maria Rosa Raboccia diceva di essere stata nominata consulente per i grandi eventi e avrebbe dovuto prendere parte all'organizzazione del G7 della Cultura da lì tutto lo scandalo che ha portato poi alle dimissioni di San Giuliano è confermata la tappa napoletana e anche quella a Pompei e poi lo sgombero immediato per le famiglie in pericolo nelle vele di Scampia dopo il crollo che ad agosto scorso ha fatto tre vittime e quindi sono le prime 50 famiglie che devono lasciare le abitazioni le costruzioni simbolo della città il resto del Carlino Veti e Liti la Commissione Europea slitta ancora è ancora questo il titolo di apertura e poi le immagini che arrivano da Viareggio Rapinatore Travolto il video shock abbiamo anche qui altre due notizie che riguardano Renato Valanzasca che va liberato secondo il suo legale perché è in condizioni critiche di salute e poi il caso Sinner che resta aperto con l'Avada che è l'agenzia internazionale per l'antidopping che prende tempo e vuole approfondire l'assunzione di un anabolizzante vietato da parte del campione del tennis mondiale la provincia apre invece con la cronaca e sui due alpinisti trovati morti sul Monte Bianco Andrea Galimberto e Sara Stefanelli lui era di Cabiate assiderato assieme alla mica le speranze dice il giornale si sono spente nel pomeriggio di ieri anche Como dedica un titolo alla riapertura delle scuole le otto scuole però sono da chiudere sarà una città bed and breakfast che praticamente è la dichiarazione di una consigliera del partito democratico sugli istituti scolastici che sono scelti specialmente quelli del centro cittadino da sempre meno persone la provincia di Lecco apre con la cronaca con la morte di un 33enne che precipita con la tuta alare morto a Pradello la tragedia dopo il lancio dal forcellino ed era già successo sette mesi fa la provincia di Sondrio apre con i lavori per la realizzazione di un parcheggio di una passerella Bormio in clima olimpico 100 posti auto per ridurre traffico e smog e anche la provincia di Sondrio dedica un titolo alla scuola 22.000 studenti nomine e algoritmi denuncia in valle sulla segnazione delle cattedre andiamo a guardare insieme l'edicola come apre su quanto accaduto a Foggia ancora un medico è picchiato questa volta però a Casarano in Salento basta violenza chiudiamo del virgolettato del direttore generale del policlinico riuniti di Foggia Giuseppe Pasqualone che ieri ha tenuto una conferenza stampa dopo che negli ultimi tre giorni si sono verificate delle pesanti aggressioni ai danni del personale sanitario il rischio che questi medici chiedano il trasferimento vadano via e il rischio ha detto è chiudere il pronto soccorso e poi l'intero ospedale si è chiesta la presenza dello Stato non per militarizzare la sanità l'aveva detto anche il presidente della federazione dei medici chirurghi odontoiatri Filippo Anelli ma per garantire il diritto alla salute e poi ancora l'emergenza carceri con un detenuto che prende a botte due agenti nel carcere di Bari il carcere era mai fuori controllo ed è quanto dichiarano i sindacati della polizia penitenziaria andiamo a guardare insieme il quotidiano del sud pensioni a un passo dal baratro al sud più pensionati che lavoratori attivi e presto questo scenario sarà replicato anche al nord nel mezzogiorno ci sono più persone che percepiscono una pensione che non lavoratori con stipendio e partita IVA poi ovviamente veti e dubbi anche su Raffaele Fitto e turbolenze per Ursula von der Leyen e slitta l'annuncio della nuova commissione e poi l'indagine perpeculato a carico dell'ex ministro Gennaro San Giuliano e come sempre aver visto insieme la prima pagina del quotidiano del sud ci dice che il nostro appuntamento termina qui io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata in compagnia dei programmi della rete grazie a tutti